Il vantaggio per il terzetto al comando, pochi metri nei confronti del gruppo aranciato lo ha stretto sul traguardo ed è il tricolore, è il tricolore! L'applauso di Prada Lunga alla vincidenza di oggi, numero uno in tutti i sensi, vince la campionessa d'Italia, Elisa Balsamo, sindaco, la prego! Matteo Parsani con Giulio Pagni in sessore allo sport, seconda classificata, la numero 32 si tratta della portafolore della Carrera Gauss, Katia Codenotti, un buon applauso anche per lei! Terza a trenta classificata, la campionessa regionale della Lombardia, Valcar PBM, Elisa Murtenti!